Francesco Totti, protagonista di eccezione dell'edizione 2024 di Lucca Comics & Games. In Piazza San Michele si è svolto un altro momento iconico dell'edizione di quest'anno della manifestazione. In tanti si sono presentati infatti per la grande parata a tema Il Gladiatore 2, il film di Ridley Scott prodotto dalla Paramount Pictures e che vede fra i protagonisti Denzel Washington. E per l'occasione c'è stato un personaggio a sorpresa, l'ex calciatore e capitano della Roma Francesco Totti. Totti ha partecipato alla parata da Piazza San Francesco a Piazza San Michele con il volto coperto per poi palesarsi per la gioia di tutti, tifosi e nonno. A quel punto il gruppo di gladiatori ha intonato un coro quasi da stadio inneggiando al capitano. Totti, 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 Totti. Totti si è intrattenuto per qualche minuto nella piazza per poi salire sul balcone dell'oggiatto di Palazzo Pretorio a salutare la folla invisibilia. Totti, 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 Totti Grazie a tutti.